Sì, non cambia mai, non cambia mai. Eccolo qui, va bene così, il braccio deve essere completamente stesso, se ci si concentra su questa posizione, il punto di concentrazione è qui, deve essere completamente stesso e non esteso per avere disponibilità della spalla. Posizione dei piedi, più o meno questa è la linea, frontale. Non ti prende tutto? Prendi le gambe. Dobbiamo chiudere questa zona. In questa posizione occorrerebbe stare almeno cinque minuti. Tutto il corpo deve puntare verso questo punto. In quest'altra posizione i gomiti chiudono e la concentrazione è sulla u-cou. I gomiti chiudono, concentrazione sulla u-cou, come volessimo spingere. In questa posizione invece concentrazione sulla punta delle dita. Quando si comincia, piedi uniti, mani salgono aperte verso l'avanti. Quando arrivano qui chiudiamo i pollici e scendiamo fino all'altezza della bocca dello stomaco. A questo punto giù e avanti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, e certo. Ora, prima posizione. Uno, due, tre, shibu. Pi, 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 shibu. Poi attraversando quattro. Uno, due, tre, quattro, spingere. Cinque, spingere. Quindi, di nuovo. Uno, due, tre, quattro, spingere. Cinque, tagliate. La seconda posizione. Uno. La posizione kumbu. Uno avanti. Due, dietro. Siamo a Napoli. 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 Tre, takoubu, shibu, takoubu, shibu, un. Ok, questo va bene. Quindi è importante che il primo passo sia, guarda sulle piedi ora, sul cerchio, shambu, il secondo, shibu, il terzo, koubu, grande, ancora shibu, ancora koubu, shibu, koubu, uscire. Un'altra cosa, quando si fa, quando ci si sposta, il piede che fa koubu deve essere leggermente alzato per poter girare, quindi, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, passiamo oltre, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, posizione così, vedete, vedi? Sì. 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 12 12 1 2 3 1 2 3 4 5 ok a proposito 1 2 la mano con l'onkou 3 4 5 5 6 7 ok mi sembra ah si questo 4 5 5 6 7 6 7 7 8 9 10 10 11 Grazie a tutti.